Partiamo da lontano. Cos'è Node.js? Non è un linguaggio di programmazione, ma è semplicemente una tecnologia che ci permette di utilizzare il linguaggio JavaScript lato server. Ed è una delle tecnologie più richieste nel mercato del lavoro, ma cerchiamo di capire come ha fatto ad arrivare a questi risultati. Allora, essenzialmente è successo questo. JavaScript è nato nel 1995 con lo scopo di andare a modificare quelli che erano gli elementi HTML presenti all'interno delle pagine Internet. Quindi essenzialmente per rendere le pagine dinamiche. E infatti la maggior parte dei programmatori conoscono JavaScript proprio per questo motivo. Tuttavia nel 2009 è successo qualcosa. Infatti è stato inventato Node.js, che permette di utilizzare JavaScript non più lato client, quindi all'interno dei browser dei visitatori, ma bensì lato server, quindi per la creazione dei siti Internet. Ed è in questo momento che JavaScript entra in competizione diretta con tutti quelli che sono i linguaggi moderni, quindi PHP, Java, C Sharp, Ruby, Python e così via. Ma vediamo come Node.js venga utilizzato oggi dalle aziende. Innanzitutto c'è lo sviluppo back-end. Viene utilizzato tantissimo in questo senso, quindi per la creazione di siti Internet, blog, social e così via. Viene utilizzato anche per la creazione delle cosiddette API in supporto di applicazioni mobile. Quindi essenzialmente noi nella nostra applicazione andiamo a contattare un server e in quel server ci sarà un codice Node.js che ci restituisce i risultati. Inoltre Node è molto forte ed è molto utilizzato per tutte quelle attività in cui abbiamo uno scambio diretto dei dati, quindi essenzialmente delle applicazioni real-time. Prova a pensare a delle chat, quindi con tanti utenti connessi contemporaneamente, ma anche a dei giochi. Ecco, in queste situazioni Node.js dà il meglio di sé, ma non soltanto qua si può utilizzare. Infatti viene utilizzato anche in altri ambiti, per esempio per la creazione di software. E ovviamente dal momento che JavaScript è un linguaggio che funziona su tutte le piattaforme, possiamo andare a creare dei software, quindi dei veri e propri programmi che possiamo installare nel nostro computer, che siano compatibili con tutti i sistemi operativi, quindi sia su Windows, su Mac e anche su Linux. Ma non solo, Node viene utilizzato tantissimo anche nell'ambito della robotica e dell'IoT, quindi assieme ad Arduino e schede simili. Per adesso abbiamo soltanto parlato, io in realtà voglio farti vedere qualche esempio concreto. Possiamo creare dei giochi multiplayer online, in questo caso Slider.io, l'hai mai sentito? Tutte le persone connesse possono giocare all'interno della stessa mappa. Ma Node.js fa anche molto altro. Infatti qui possiamo vedere come venga utilizzato insieme ad Arduino per modificare i controlli di una macchina e telecomandarla tramite Node. Possiamo utilizzarlo anche per fare delle applicazioni, come ti ho detto prima, quindi delle applicazioni desktop multipiattaforma, che funzionino sia su Mac, su Windows e su Linux. Qui possiamo vedere qualche esempio molto famoso, dal momento che viene utilizzato anche da Microsoft, Facebook, Slack e Docker. Proprio con questa tecnologia il gruppo Digitab ha creato un editor, ovvero Atom, quello che io utilizzo solitamente all'interno dei miei corsi. Ma anche Visual Studio Code della Microsoft è creato proprio utilizzando questa tecnologia, Electron. Ovviamente Node può essere utilizzato anche per la creazione di normali siti web, quindi siti internet, e anche per le API. Ma vediamo qualche esempio di qualche grossa azienda che ha deciso di utilizzare Node all'interno dei propri server. Per esempio Paypal ha voluto fare un esperimento per lo sviluppo del backend della sua app mobile, creando due diversi team di lavoro, una in cui veniva scritta in Java e l'altra in cui veniva scritta con Node.js. Beh, il risultato è stato che il team che sviluppava in Node.js ha impiegato la metà del tempo per finire il lavoro. Inoltre l'applicazione aveva dei tempi di risposta del 50% più rapidi rispetto all'app scritta in Java. Groupon, invece, ha incrementato la velocità di caricamento delle sue pagine web del 50%, migrando il proprio codice dal backend da Ruby on Rails verso Node.js. E gli sviluppatori hanno riscontrato che l'aggiunta di nuove funzionalità nel codice risultava molto più veloce rispetto a prima. Come ultimo esempio, LinkedIn, che ha scritto il backend della propria applicazione mobile con Node, ottenendo un miglioramento delle performance 20 volte superiore rispetto a prima e utilizzando il 90% dei server in meno, quindi risparmiando parecchi soldi. Questo è fantastico. La lista delle aziende che siano grandi o piccole, che traggono enormi vantaggi dall'utilizzo di Node, potrebbe continuare all'infinito. Se anche tu vuoi arrivare a questi risultati per i tuoi progetti o per i progetti dei tuoi clienti, devi prima conoscere le basi di Node. Io ho cercato di creare una traccia, un percorso, e credo davvero che ti possa aiutare per coprendere a fondo quelli che sono le basi di Node e il suo modo di lavorare e di funzionare, per andare a raggiungere dei risultati concreti in un tempo relativamente breve. Il corso è basato su un'unica regola principale, ovvero non devi mai copiare il codice, devi capire il codice. Uno dei principali problemi dei libri e dei tutorial e degli articoli su Node che ho trovato online e che anch'io ho utilizzato, è che nella maggior parte dei casi si concentrano sul limitare, cioè l'insegnante scrive un codice e tu lo riscrivi uguale pensando di capirlo. Ma poi quando si arriva nel mondo reale, incontri i primi problemi, magari diversi da quelli che hai visto nelle lezioni, ti accorgi che non riesci a risolverli. Perché? Perché è molto diverso imitare un codice piuttosto che capire il codice, riga per riga, capire cosa sta succedendo. Guarda questo esempio, è il codice di partenza di molti tutorial Node.js. Ed è stupendo, serve per creare un web server con pochissime righe di codice JavaScript. Tu magari sai come eseguirlo e come raggiungere il server che viene creato, ma conosci effettivamente cosa succede sotto, come viene eseguito. Capisci cosa succede dal punto di vista di JavaScript per tutti gli elementi e tutti gli aspetti di questo codice? Se hai già le risposte a queste domande e non hai dubbi su questo codice, vuol dire che questo non è il corso che fa per te. Conosci già Node.js, continua così. Invece, se non è così, possiamo iniziare questo percorso assieme. Non andremo solo a scrivere del codice, ma andremo a capire a fondo cosa sta succedendo. Quindi, non perdere tempo perché questo è il momento migliore per imparare Node.js. Ciao, io sono Alberto Olla e in questa lezione ti farò vedere come puoi predisporre all'interno del tuo computer l'ambiente di lavoro per poter utilizzare Node.js in maniera semplice e veloce. Come prima cosa, dobbiamo installare nel tuo computer Node.js, quindi vai sul sito Node.js.org e seleziona la voce Downloads. Ora, se tu hai già installato Node.js puoi saltare questo passaggio oppure, se vuoi, lo puoi aggiornare. In ogni caso, per installarlo basta scendere qui sotto e qui troverai la lista dei vari sistemi operativi. Quindi, seleziona e scarica il pacchetto più adatto al tuo. Quindi abbiamo Windows, Mac o Linux. Io non ti farò vedere la procedura di installazione perché è veramente semplice. Tuttavia, voglio farti notare che assieme a Node.js ti viene installato anche l'NPM, che sta per Node Package Manager ed è essenzialmente un programmino associato a Node che imparerai ad utilizzare all'interno di questo corso un poco alla volta. Adesso che hai completato l'installazione, dobbiamo verificare che sia andato tutto a buon fine. Bisogna aprire il terminale all'interno del tuo sistema operativo. Se sei un utente Mac o un utente Linux, sicuramente saprai già cos'è un terminale e come aprirlo. Se invece sei un utente Windows, potresti non saperlo, quindi te lo faccio vedere. Andiamo nella barra di ricerca e scriviamo CMD. Eccolo qui. Clicchiamo con il tasto destro e selezioniamo la voce Esegui come amministratore. Eccoci qua. Adesso noi dobbiamo verificare che Node.js sia installato correttamente. Quindi a prescindere dal sistema operativo in cui ti trovi, scrivi Node-V. Quindi essenzialmente andiamo a richiamare Node e le diciamo restituisci la versione. Se ti restituisce una versione, e ovviamente il numero di versione potrà essere diverso, vuol dire che hai installato Node.js correttamente. Complimenti. Se invece non ti restituisci un numero, ma ti dà un errore, vuol dire che c'è stato qualche problema con l'installazione. Quindi non puoi andare avanti con il video, quindi devi rieffettuare l'installazione. Dopodiché scrivi NPM-V, quindi per verificare che sia stato installato anche l'NPM. Anche qui ci dà il numero della versione, quindi è stato installato correttamente. Ma che cos'è l'NPM? Viene sul sito npmjs.com. Essenzialmente è uno strumento che serve per facilitare a tutti gli sviluppatori JavaScript in generale, quindi non soltanto agli sviluppatori Node.js, la condivisione dei propri codici e quindi anche il riutilizzo. Quando uno sviluppatore JavaScript nel mondo scrive un codice che risolve un determinato problema, lo condivide all'interno dell'NPM, come se fosse un'enorme libreria di codici. In questo modo tutti gli sviluppatori JavaScript possono prendere il suo codice ed utilizzarlo all'interno dei propri progetti. Fantastico! L'altro strumento che ti servirà per seguire il corso è un editor di testo. Io in questo corso andrò ad utilizzare Atom. Ovviamente tu puoi usare l'editor che preferisci, è indifferente, quindi Sublime, Brackets, Visual Studio Code, ma va bene qualsiasi cosa, anche un semplicissimo block notes. Ok, adesso andiamo su nodeschool.io. Eccolo qua. Quando ho pensato di realizzare questo corso mi è venuta in mente la domanda ma qual è il miglior modo per insegnare qualcosa? Ovviamente farla fare in prima persona. E gli sviluppatori di Node, che sono molto furbi, ci avevano già pensato e hanno creato un sito con delle guide e dei tutorial scritti in Node.js per imparare Node.js o anche tante altre tecnologie simili. Per esempio per imparare le basi di JavaScript, di Git, dell'NPM, ma anche argomenti più complessi e avanzati come per esempio la programmazione funzionale, Express, le promises o MongoDB. Tutto gratis e a tua disposizione. Quello che utilizzerò io all'interno di questo corso è Learn Your Node. Ed eccolo qui. Ed è stato pensato per permettere a chiunque di imparare i fondamenti di Node.js come la programmazione asincrona o il modulo HTTP che serve per la creazione dei web server. In realtà c'è molto altro da imparare e tutto questo lo vedremo all'interno del corso. Cominciamo subito a sporcarci le mani e installiamo il pacchetto che andremo ad utilizzare per tutte le lezioni di questo corso, ovvero Learn Your Node. Aspetta un momento, se sei un utente Mac o Linux, il prossimo comando lo dovrei lanciare come utente amministratore, quindi come utente root. Se sai già come fare, puoi continuare a guardare questo video. Se invece non sai come si fa, ho preparato un video apposta per te che trovi qui sotto nella descrizione, ok? Va bene, adesso possiamo continuare. Dobbiamo installare Learn Your Node, quindi scriviamo npm install-g Learn Your Node. In questo modo andrà a installare il pacchetto Learn Your Node a livello globale, ovvero in tutto il computer. Attendiamo l'installazione e adesso ci basterà scrivere sul terminale Learn Your Node e cliccare invio. Eccoci qua, ci apre una sorta di avventura visuale in cui abbiamo tante missioni da dover completare. E ovviamente man mano che andremo avanti con gli esercizi, la difficoltà aumenterà e scoprirai sempre nuove funzionalità. Non ti preoccupare per la lingua perché non c'è solo l'inglese, ce ne sono anche altre, ovviamente c'è anche l'italiano. Io ti consiglio di lasciare la lingua inglese così da esercitarti. Inoltre, ogni singolo esercizio lo andremo a spiegare assieme, cioè te lo spiegherò passo passo. Quindi anche se dovessi avere qualche difficoltà nel capire l'inglese, non ti devi preoccupare perché tanto lo riassumiamo assieme e te lo spiego io. Ma cosa c'è di così bello sul Learn Your Node? Proviamo ad aprire il primo esercizio. Come puoi vedere, ci dà una missione, un esercizio che tu dovrai cercare di risolvere. Ci dà anche dei suggerimenti e ci spiega e ci aiuta a risolvere il problema. Inoltre, la funzione principale di Learn Your Node ed è il motivo per il quale io l'ho scelto come perno di questo corso è la funzione Verify che esegue dei test automatici sul nostro codice e andrà a verificare se abbiamo superato o meno l'esercizio. In questo modo tu potrai sviluppare in completa autonomia. Bene, torniamo alla lista degli esercizi. Learn Your Node è sicuramente uno strumento molto interessante perché ti permette di avere la lista di tutti questi esercizi e ti dà lo strumento di verifica dei codici. Tuttavia, ha delle pecche. Infatti, pur essendo stato creato per persone che non conoscono Node.js e che lo vogliono imparare, dà parecchi concetti per scontati e spesso ne tralascia degli altri che invece sono molto importanti e utili da approfondire. Quindi il mio compito è quello di andare ad integrare tutte queste mancanze di Learn Your Node. Io andrò ad aggiungere tutte le mie conoscenze, le mie esperienze. Andremo a soffermarci su ogni singolo esercizio per cercare di capirlo assieme. Faremo tantissimi esperimenti anche per gli esercizi più semplici e non ti limiterai soltanto a copiare il codice che ti viene dato ma cercherai di capirlo a fondo. Ti spiegherò ogni singola riga di codice che andrò a scrivere. Nel corso io non voglio soltanto insegnarti la pratica ma voglio spiegarti tutta la teoria che sta dietro la pratica. Quindi utilizzeremo Learn Your Node durante tutto il corso perché ci dà l'opportunità e gli spunti giusti per approfondire gli aspetti della programmazione con Node.js sia a livello pratico che a livello teorico. Ok, forse ho parlato anche troppo, rimbocchiamoci le maniche e iniziamo a programmare con Node.js. Dalla prossima lezione. Ciao, io sono Alberto Olla e in questa lezione ti farò vedere come scrivere il tuo primo codice JavaScript che non verrà più eseguito lato client come sei sempre stato abituato a fare ma bensì questa volta verrà eseguito lato server tramite Node.js. Iniziamo! Cominciamo subito e andiamo a vedere cosa ci chiede di fare Learn Your Node in questo primo esercizio. Scrivi un programma che stampi il testo Hello World nella console. Va bene, sembra facile. Ci dà anche dei suggerimenti quindi ci aiuta a risolverlo e ci dice per creare un programma con Node.js ci basta creare un file con estensione .js e utilizzare il linguaggio JavaScript. Per eseguire il file dobbiamo lanciare un comando nel terminale cioè lo strumento che noi stiamo utilizzando in questo momento è scrivere node, spazio, il nome del file o il percorso del file. Inoltre ci dice che possiamo scrivere nella console nello stesso identico modo che utilizziamo già all'interno del browser quindi utilizzando il comando console.log. Ok, fermati un attimo qua perché ti voglio portare all'interno della documentazione ufficiale di Node.js che è sempre bene imparare a conoscere e ad utilizzare. Quindi vai all'indirizzo nodejs.org.api e qui trovi la documentazione ufficiale. Andiamo sotto la voce console. Eccolo qua. Qui hai la lista di tutti quelli che sono i metodi che puoi richiamare all'interno di Node.js per l'oggetto console e come puoi vedere sono praticamente gli stessi metodi che hai a disposizione anche con JavaScript quando lo utilizzi all'interno del browser. Console è ritenuto un oggetto globale ovvero un oggetto che puoi andare a richiamare in qualsiasi punto del tuo codice. Infatti se andiamo su globals troviamo anche console nella lista assieme ad altri oggetti che andremo ad approfondire nei prossimi esercizi. Quindi torniamo su Learn New Node. Ok, una volta che abbiamo finito di scrivere il nostro codice dobbiamo lanciare il Verify di Learn New Node che eseguirà dei test automatici e ci dirà se effettivamente il nostro codice corrisponde alle sue aspettative o meno. Però questo lo vedremo dopo. Ok, ho parlato abbastanza. Iniziamo subito a risolvere la missione. Innanzitutto creiamo una cartella di lavoro in cui andremo ad inserire tutti i nostri codici che scriveremo durante il corso. Io l'ho chiamata Learn New Node. Eccola qua. E posizioniamoci all'interno della cartella nella nostra riga di comando. Se sei già pratico di terminali saprai già come fare. Se invece non sei pratico ti svelo questo piccolo trucchetto che è molto semplice. Ti basterà scrivere cd spazio poi prendi la cartella che hai creato e la trascini all'interno del terminale. In questo modo ti restituirà il percorso completo. Quindi clicca invio e lancia il comando. Ottimo. Adesso apriamo il nostro editor preferito e iniziamo a scrivere un po' di codice. Io andrò ad utilizzare Atom e l'ho già posizionato all'interno della cartella Learn New Node. Quindi creiamo un nuovo file lo chiamiamo 01helloworld.js e scriviamo il nostro codice. Abbiamo detto che dobbiamo fare una stampa quindi un console.log e stampiamo la scritta hello world. Salviamo il file torniamo nella console e proviamo ad eseguire il nostro codice. Quindi siamo già all'interno della cartella ci basterà scrivere nod spazio il nome del file quindi 01helloworld e come possiamo vedere ci restituisce effettivamente il risultato. Proviamo a lanciare il verify quindi learnunod verify il nome del file. Cosa fa learnunod? In questo caso ha eseguito dei test automatici che noi abbiamo fallito. Perché li abbiamo falliti? Perché il risultato del nostro codice restituisce hello world soltanto con le prime due lettere maiuscole invece quello che lui si aspettava era un hello world con tutte le lettere maiuscole esattamente come ci aveva chiesto nel comando. Quindi torniamo sul nostro codice modifichiamo salviamo e rilanciamo il verify. Perfetto una volta che superiamo l'esercizio learnunod ci fa anche vedere quello che è il codice ufficiale quindi la soluzione ufficiale proposta per risolverlo. In questo caso sono identiche però man mano che andremo avanti con gli esercizi che saranno sempre più difficili sarà anche interessante vedere quelle che sono le differenze tra il nostro codice e la soluzione ufficiale. Ok facciamo un piccolo riepilogo delle cose che hai appena imparato. Innanzitutto hai visto come poter eseguire dei codici javascript tramite node.js quindi con il comando node poi abbiamo anche visto come poter eseguire i verify quindi la verifica del codice tramite learnunod e abbiamo anche dato un'occhiata alla documentazione ufficiale. Ottimo Questa era soltanto la prima missione ce ne mancano altre 12 altri 12 esercizi man mano che andremo avanti impareremo ad usare e a capire come funziona node.js quindi rimbocchiamoci le maniche e continuiamo ad imparare node. Ciao io sono Alberto Olla e in questa lezione introduttiva andiamo a vedere dove puoi scaricare i materiali per seguire le lezioni. Iniziamo andiamo su gtab eccoci qua ci basta cercare da jQuery ta node.js corso eccolo qui Alberto Olla corso node.js trattino materiale questo link te lo metto anche sotto come descrizione del video come prima cosa metti star e poi qui clicca su watching in questo modo avrai avvisato delle eventuali modifiche e aggiunte che farò a quelli che sono i sorgenti del corso dopodichè non ti resta che scaricare il pacchetto o clonarlo all'interno del tuo computer io per il momento lo scarico eccoci qua estrai la cartella quelli che vedi qui dentro sono i codici sorgenti che io ho scritto per andare a risolvere quelli che sono gli esercizi di learning node usali soltanto in caso di problemi e difficoltà poi ovviamente le tue soluzioni potranno essere diverse potranno addirittura essere migliori più performanti più veloci scritte meglio tutto quello che vuoi per me l'importante è riuscire a trasmetterti e insegnarti quelli che sono i fondamenti di Node.js ciao io sono Alberto Olla in questa lezione ti farò vedere come risolvere la missione 2 di learning node quindi impareremo come passare degli input al nostro codice javascript tramite il terminale e successivamente voglio farti vedere alcune delle nuove funzionalità della sintassi ES6 o chiamata anche ECMAScript 2015 c'è tanto da dire cominciamo cominciamo subito e andiamo su learn new node nell'esercizio 2 queste lezioni servono per far diventare te un vero sviluppatore Node.js quindi adesso con calma leggi bene l'esercizio cerca di capire cosa ci sta chiedendo di fare qual è il problema e soprattutto quale codice dobbiamo andare a scrivere per poterlo risolvere se vuoi metti pure in pausa il video adesso così dopo lo vediamo assieme ok bene hai già fatto vediamo assieme cosa ci chiede di fare in questo esercizio innanzitutto riceviamo in input una lista di numeri noi dobbiamo scorrere i numeri e sommarli tra di loro successivamente ci basterà semplicemente stampare il totale della somma all'interno della console andiamo a scrivere un po' di codice nella nostra cartella di lavoro creiamo un nuovo file in cui andremo ad inserire il codice di questo esercizio quindi lo chiameremo 02 baby steps .js come ci suggerisce Learn New Node proviamo a stampare quello che è il valore di process.argv ovvero quelli che sono gli input che verranno passati al nostro programma al nostro file quindi console.log process.argv salviamo il file e torniamo sul terminale per provarlo allora io mi trovo già posizionato all'interno della mia cartella di lavoro come al solito inoltre per fare il nostro test non andremo a lanciare il verify ma bensì questa volta lancieremo il run quindi Learn New Node Run andiamo ad inserire il nostro file quindi 02 eccolo qua e proviamo a lanciarlo ecco cosa ci restituisce abbiamo un array quindi una lista di elementi nella prima posizione abbiamo sempre il percorso in cui si trova Node.js all'interno del nostro computer ovviamente sarà sicuramente diverso nel tuo computer in seconda posizione invece abbiamo il file che Node.js sta eseguendo quindi in questo caso 02 baby step invece in tutte le altre posizioni abbiamo quelli che sono gli elementi di input che sono stati passati dal Learn New Node tramite il run quindi facciamo una prova e passiamo noi gli elementi di input al nostro programma quindi scriviamo node spazio il nome del file quindi 02 spazio e successivamente andiamo a inserire i nostri input quindi 1 2 3 4 e 5 ottimo quindi in prima posizione l'esecuzione di Node seconda posizione lo script e dalla seconda posizione in poi invece abbiamo quelli che sono gli elementi passati in input se noi proviamo a richiamare lo script senza nessun input quindi in questo modo vedremo che otteniamo una lista quindi un array formata solo da due elementi come al solito Node e script se hai ancora dubbi sul funzionamento di process.argv puoi andare sul sito nodejs.org slash api quindi una documentazione ufficiale andare a cercare process eccolo qui e selezionare argv eccolo qua quindi qui ti fa vedere un esempio molto simile a quello che noi abbiamo visto nella console quindi quello che dobbiamo fare noi in questo esercizio è scorrere process.argv saltando i primi due elementi dal momento che noi siamo su javascript e le array partano dall'indice 0 vuol dire che dobbiamo partire dall'indice 2 dal momento che nell'indice 0 abbiamo lo script di node nell'indice 1 abbiamo il nostro script invece nell'indice 2 abbiamo il nostro input ok proviamo dovremo fare un ciclo un for per scorrere tutti gli elementi passati nell'array quindi for abbiamo detto che dobbiamo scorrere process.argv quindi scriviamo process.argv non dobbiamo partire dall'indice 0 ma dobbiamo partire bensì dall'indice 2 e adesso cosa dobbiamo fare? dobbiamo fare una somma quindi ci servirà sicuramente una variabile per esempio total uguale anzi possiamo usare la dicitura più uguale qui passiamo questo dichiariamo la nostra variabile total qui possiamo anche utilizzare la funzione number così da convertire le stringhe in numeri da non avere problemi nella somma e poi successivamente dobbiamo stampare il totale nella console quindi total salviamo il file e proviamolo prima di lanciare il verify di learn new node facciamo una prova personale node 02 passiamo 2 2 diamone degli input perfetto funziona 4 proviamo a lanciare il verify ottimo abbiamo passato tutti i test e qui sotto come sempre puoi andare a vedere quello che è il codice ufficiale che ci propone learn new node per risolvere l'esercizio come puoi vedere è molto simile alla soluzione che abbiamo scritto assieme tuttavia io non sono affatto contento innanzitutto questo codice che vedi qua ma anche il nostro codice quello che abbiamo scritto assieme non vanno ad utilizzare in nessun modo le nuove funzionalità della sintassi javascript ssa e questa è una grandissima pecca perché se tu vuoi diventare un bravo sviluppatore node.js devi per forza conoscere quella che è la nuova sintassi di javascript andiamo un attimo sul sito ssa-features.org e qui puoi vedere tutte quelle che sono le nuove funzionalità introdotte nell'ecmascript 2015 ho chiamato ssa come puoi vedere sono tante quindi il passaggio dalla vecchia versione di javascript alla nuova non è così immediato quindi ho pensato a una soluzione interessante quello che ti propongo è di usare questo programmino che si chiama eslint che ci dà dei consigli all'interno del nostro editor quindi all'interno di Atom e ci dice cosa noi dobbiamo modificare per rendere il nostro codice adatto alla nuova versione di javascript inizialmente andremo ad utilizzarlo semplicemente per darci dei suggerimenti man mano che anche tu apprenderai quelli che sono i consigli che ti dà eslint impararei subito a scrivere del codice javascript che già va a rispettare quelle che sono le nuove specifiche della sintassi ti faccio vedere subito un esempio di come eslint funziona all'interno di Atom eccoci qua questo è il codice che abbiamo scritto poco fa e come puoi vedere ci sono tanti pallini rossi tutti questi pallini rossi e queste sottolineature stanno ad indicare che eslint ha analizzato il codice e che ha trovato delle cose che non vanno bene per ognuna ci dà dei suggerimenti e ci dice come noi la possiamo risolvere per esempio qui ci dice attenzione c'è un var inaspettato al posto di var dovresti usare let o const questo perché nella nuova sintassi S6 var è stato deprecato cioè non viene più utilizzato al suo posto sono stati introdotti altri due termini e sono let e const essenzialmente funziona così const serve per le costanti quindi quelle variabili immutabili che tu dichiari una volta sola all'interno del tuo codice e non vai più a modificare ma le usi solamente per tutti gli altri casi si usa let quindi vedi già come var non venga più utilizzato all'interno delle S6 volevo dirti che eslint può essere configurato in diversi modi quindi per mostrare messaggi diversi quello che interessa fare a me all'interno di tutto il corso è utilizzarlo per due funzioni diverse la prima il fatto che ci segnala quando stiamo andando a utilizzare una vecchia sintesi di javascript e la seconda invece è che ci segnali quando stiamo andando a scrivere un codice che non rispetta quelle che sono le best practices del linguaggio cioè una serie di regole che il nostro codice dovrebbe rispettare per essere comprensibile da tutti e per avere il minor numero possibile di bug al suo interno ok per adesso fermiamoci qua ti farò vedere come installare eslint all'interno del tuo computer nella prossima lezione e adesso facciamo un riepilogo di tutto quello che hai imparato hai visto come ricevere degli input da terminale tramite process.argv ma abbiamo anche visto alcune o comunque la lista di quelle che sono le funzionalità della sintassi es6 e adesso conosci anche lo strumento chiamato eslint anche se non l'hai ancora utilizzato ma andiamo con calma ottimo questa era la missione 2 e l'hai completata con successo te ne mancano soltanto altre 11 continua così hai fatto un ottimo lavoro nella prossima lezione ti farò vedere come configurare eslint e inizierai subito ad utilizzare la nuova sintassi di javascript ciao io sono Alberto Olla e questa è una lezione bonus appositamente creata e totalmente incentrata su eslint il programmino che ti permette di correggere il tuo codice javascript vedremo come installarlo come integrarlo all'interno di Atom e successivamente anche come configurarlo con quelle che sono le linee guida di Airbnb e per utilizzare la sintassi es6 di javascript iniziamo innanzitutto voglio spiegarti perché è così utile utilizzare eslint come programma quando andiamo a sviluppare non soltanto adesso che stai imparando ma anche in futuro quando avrai finito il corso innanzitutto ti aiuta a mantenere sempre la sintassi aggiornata ma non solo a mantenere il codice aggiornato a mantenere anche quelle che sono le tue conoscenze aggiornate perché quando andrai a scrivere un codice tra virgolette obsoleto o deprecato lui ti avviserà con un messaggino e quindi tu di conseguenza potrai apprendere nel mentre che scrivi codici questo è fantastico inoltre linee guida ti aiuta a scrivere un codice che sia leggibile quindi mantenendo un certo standard e anche che sia il più possibile privo di bug terzo punto professionalità eslint è uno strumento avanzato e professionale e quindi utilizzarlo già da ora ti darà delle ottime basi in futuro per quando finirà il corso e per quando vorrai proporti nel mercato come sviluppatore NoJS ok? adesso voglio farti vedere un punto relativo alle linee guida questo è un progetto di Airbnb ed è la style guide di JavaScript ovvero le linee guida su come programmare con i linguaggi JavaScript scritte e ideate dagli ingegneri di Airbnb questa azienda infatti è molto attiva per quanto riguarda la community di sviluppatori JavaScript ma scendiamo e vediamo che cosa hanno fatto nel concreto eccolo qua questo è un primo esempio qui ci dice utilizza const per tutte quelle che sono le tue dichiarazioni delle variabili al posto di utilizzare var e qua ci dà anche un motivo perché ce lo spiega e ci dice in questo modo quindi utilizzando const al posto di var sarai sicuro che la tua variabile non potrà essere riassegnata in altre porzioni del codice questo quindi evita che si possano creare dei bug difficili da comprendere in futuro questo è un ottimo motivo qui ci fa vedere un esempio cattivo nel senso quello che noi non dovremmo fare ovvero scrivere var a uguale 1 var b uguale 2 e qui invece ci fa vedere come il codice può essere corretto quindi scrivendo semplicemente const a uguale 1 e const b uguale 2 come puoi vedere la lista è molto lunga e anche poco senso andarsela guardare in questo modo ha molto più senso invece inserire tutte queste linee guida all'interno di eslint quindi andiamo ad installare eslint all'interno del nostro computer per farlo ci basterà aprire il terminale come amministratori quindi se siamo su windows dobbiamo scrivere cmd prompt di comandi clicchiamo con il tasto destro e selezioniamo la voce esegui come amministratore se usi mac o linux devi effettuare l'accesso come utente root l'hai fatto in qualche lezione fa quando hai installato il pacchetto learn new node ti ricordi? devi fare la stessa cosa una volta che hai aperto il terminale come amministratore sia se sei su windows sia su linux quindi indipendentemente dal sistema operativo scrivi questo comando scriviamo npm install l-g perché stiamo andando a fare un'installazione globale per questo abbiamo aperto il terminale come amministratori e scriviamo as lint non solo andiamo anche a scrivere i plugin o comunque i pacchetti che già ci servono quindi scriviamo as lint trattino plugin trattino import spazio ne inseriamo anche un altro che si chiama as lint trattino config trattino airbnb trattino base quindi base se dovessi avere problemi a scrivere questa riga la trovi nella descrizione del video clicchiamo invio e aspettiamo che concluda l'installazione ora apriamo atom e iniziamo ad installare quelli che sono i vari pacchetti o i vari plugin di atom che ci servono per integrare as lint quindi andiamo su file settings si aprirà questa voce e andremo a selezionare install qui andremo a fare una ricerca e scriviamo linter trattino es lint clicca invio perfetto il pacchetto che noi andremo ad installare è proprio questo quindi linter trattino es lint clicchiamo su install probabilmente ci vorrà un po' di tempo quindi mettiti comodo ok linter es lint è stato installato e ci dice che richiede delle dipendenze in questo caso linter diciamo di sì vogliamo installare anche la dipendenza anche qui bisogna aspettare un po' perfetto il pacchetto linter è stato installato e ci chiede nuovamente di installare delle nuove dipendenze diciamo sempre di sì attendiamo che finisca l'installazione ottimo ci sono altre due queste sono le ultime due dipendenze clicchiamo sempre su sì e attendiamo finalmente che finiscano perfetto adesso se vai su package dovresti vedere tutte quelle che sono i pacchetti che abbiamo installato sotto la voce community package eccoli qua uno due tre quattro e cinque questi sono i pacchetti che io ho appena installato e che anche tu dovresti vedere se non li vedi prova a chiudere a riaprire Atom e se anche in quel caso non dovessi vederli basta semplicemente rifare l'installazione di quelli che ti mancano adesso proviamo ad aprire il nostro file quindi baby steps 2 eccolo qua noi attualmente abbiamo soltanto installato i plugin ma non l'abbiamo ancora configurato possiamo vedere che è tutto funzionante e che è tutto installato perché qui in basso ci dovrebbe apparire una piccola finestrella eccola qua tuttavia non ci dà nessun errore questo perché non è stato configurato allora creiamo il nostro file di configurazione di eslint nuovo file bisogna scrivere punto eslint rc invio perfetto questo è il file qui apriamo un oggetto quindi con le parentesi graffe e andiamo a scrivere extends due punti airbnb trattino base poi virgola aggiungiamo un altro parametro che si chiama rules qui apriamo le parentesi graffe perché anche questo è un oggetto e lo lasciamo vuoto così salviamo il file chiudiamo questo chiudiamo baby steps chiudiamo setup chiudiamo tutto insomma chiudiamo anche atom e riaviamolo quindi apriamo baby step qui in basso puoi vedere che c'è questo pallino che pulsa adesso è diventato verde e sono apparsi gli errori cerchiamo di capire quali sono i veri errori e quali no nel mio caso almeno come puoi vedere ho un errore in ogni riga e l'errore che si ripete è questo il line breaker style questo è dovuto a un problema di configurazione che è molto semplice da risolvere basta andare qui nel footer e selezionare il crlf si aprirà questa piccola finestrella e basta cliccare sull'opposto quindi in questo caso lf ok perfetto sono spariti gran parte degli errori vediamo invece quelli che sono gli errori che sono rimasti qui come abbiamo visto prima c'è scritto di non usare più il var ma di utilizzare il let o const nel nostro caso total è una variabile che varia quindi andiamo ad utilizzare let tuttavia voglio fare una prova e voglio vedere se effettivamente es lit è così intelligente come credono proviamo a scrivere const e vediamo cosa succede tang c'è per un errore qui ci dice che total è una costante quindi pertanto non si può riassegnare quindi ok rimettiamo let perfetto poi quindi qui ci sta dicendo che tutti i var devono essere dichiarati all'inizio dello scope nel nostro caso all'inizio del file ma a noi non interessa questo perché in ogni caso questo non è un var ma è un let ok perfetto l'errore è scomparso e qui invece c'è una cosa interessante qua ci sta consigliando di non utilizzare il più più ma io sono curioso e voglio sapere perché non vuole che utilizziamo il più più quindi andiamo qui alla fine della riga e clicchiamo su questo bottoncino ti aprirà questa pagina in cui ti va a spiegare nel dettaglio perché è sconsigliato utilizzare il più più e il meno meno ma non solo ti va a spiegare perché è sconsigliato usarli ma ti va anche a mostrare cosa invece dovresti fare quindi cosa dovresti usare qui vediamo l'esempio negativo quindi non corretto e invece qua l'esempio positivo quindi quello corretto vediamo che ci consiglia di utilizzare la dicitura più uguale 1 ok va benissimo non c'è problema scriviamola riapriamo atom più uguale 1 ok perfetto andiamo avanti l'ultimo problema che ci è rimasto è questo in questo caso non è un errore perché non è rosso ma è un warning come puoi vedere qui è giallo e ci dice semplicemente che non si aspettava che noi utilizzassimo l'oggetto console ma cerchiamo di capire perché quindi clicchiamo nel link eccolo qua qui ci spiega essenzialmente che l'oggetto console solitamente viene utilizzato quando noi stiamo facendo il debugging o comunque quando siamo in attività di sviluppo quando stiamo sviluppando tuttavia ci dice che è fortemente sconsigliato utilizzare l'oggetto console quando si va in produzione in produzione vuol dire semplicemente che noi abbiamo finito di scrivere il nostro progetto e lo rendiamo disponibile al pubblico quindi se stiamo facendo un sito lo mettiamo online effettivamente se stiamo facendo un'app la inseriamo nei vari store e così via tuttavia ESLint non sa che tu stai ancora imparando a sviluppare con OJS quindi dobbiamo dire a ESLint di non dirci più questo problema di escluderlo dai nostri codici così ogni volta che noi andremo ad utilizzare il console.log ESLint non ci avviserà che stiamo facendo qualcosa di sbagliato ora dobbiamo semplicemente andare a modificare quelle che sono le regole e dire che questo particolare errore non ci compete non lo vogliamo più visualizzare quindi come facciamo? innanzitutto dobbiamo ricordarci questo nome ovvero no-console anzi lo copio per sicurezza poi andiamo su user guide configurating ESLint clicchiamo scendiamo e cerchiamo la parte relativa alle regole eccole qua configuration rules quello che ci interessa è questo ovvero che se noi andiamo a modificare le nostre regole che sono queste ok possiamo andare a scrivere 0 1 o 2 0 nel caso vogliamo la regola spenta 1 nel caso vogliamo dei warning e 2 nel caso vogliamo degli errori nel nostro caso noi vogliamo che la regola sia spenta quindi con 0 o con off come preferisci torniamo su atom apriamo il file di configurazione quindi eccolo qua inseriamo il nome della regola no console 2 punti 0 salviamo il file chiudiamo questo salviamo baby step e vediamo che effettivamente il problema è stato risolto ora hai appena scritto un codice che va a rispettare quella che è la nuova sintesi di javascript essai infatti va a utilizzare il let al posto di var tuttavia anche dopo tutte queste modifiche io continuo a non essere contento il codice che abbiamo scritto è troppo vicino al vecchio approccio al vecchio ragionamento con il quale si scrivevano dei codici javascript quello che invece viene utilizzato adesso dalla nuova sintassi essai è molto diverso e voglio giusto fartelo vedere creiamo un nuovo file che chiamiamo 02 baby steps trattino s6 punto js ok io ho già preparato il codice ma ti avviso è molto diverso rispetto al precedente eccolo qui allora innanzitutto togliamo gli errori quindi andiamo a inserire lf perfetto come puoi vedere è molto diverso rispetto al precedente e vado ad utilizzare i metodi degli oggetti array quindi abbiamo il map il filter e il reduce l'altra cosa che potrebbe sembrarti strana è questa dicitura quindi con questa piccola freccia questa infatti si chiama arrow function e serve essenzialmente per scrivere una funzione in maniera più veloce ti faccio vedere subito un esempio quando noi di solito creiamo una funzione nel vecchio stile di javascript bisognava scrivere function nome funzione ok i valori e poi le parentesi graffe e un return se lo volevamo questa era la nostra funzione adesso invece possiamo riscriverla tramite la row function quindi function è il nome della funzione lo eliminiamo rimane quindi la parentesi con gli input le parentesi graffe e le sostituiamo con un bel uguale e simbolo di maggiore quindi le eliminiamo return è sottointeso quindi lo togliamo ed ecco qua abbiamo ottenuto la nostra funzione scritta in stile arrow function come ti ho già detto in questo corso non ci concentreremo tantissimo sulla sintassi ssi anche perché come puoi vedere è abbastanza diversa dall'altra ma mi limiterò innanzitutto a farti utilizzare eslint per andare a scrivere dei codici funzionanti e questo è proprio il requisito minimo in aggiunta anche se è esterno a quelli che sono gli esercizi di learning node a me fa piacere farti vedere anche soltanto in velocità quella che è l'alternativa che ci offre es6 per risolvere l'esercizio infatti se provi a utilizzare questo codice e a lanciarlo nel verify ti darà il risultato corretto ah che fatica finalmente ce l'abbiamo fatta facciamo un piccolo riepilogo velocissimo delle cose che abbiamo visto in questa lezione innanzitutto hai installato e configurato eslint nel tuo computer ottimo lavoro inoltre abbiamo modificato il codice quindi il precedente codice javascript che avevamo scritto della missione 2 seguendo quelle che erano le linee guida suggerite da eslint e inoltre ti ho anche fatto vedere proprio in maniera velocissima alcune delle nuove funzionalità della sintassi es6 che come ti ho già detto sarebbe grandioso approfondire in un altro corso quindi se sei arrivato fin qui ti faccio i miei complimenti ben fatto adesso hai una nuova arma nel tuo arsenale e sei pronto per le prossime missioni ciao io sono Alberto Olla e in questa lezione bonus parliamo di programmazione sincrona e asincrona parliamo della differenza tra IO bloccante e non bloccante e delle callback in javascript iniziamo i prossimi esercizi di learn new node che dovrai affrontare sono appunto questi due my first IO e my first async IO ora la differenza tra i due è abissale nel primo devi andare a leggere un file all'interno del tuo computer in maniera sincrona ovvero programmando nella maniera più classica invece nel secondo caso quindi in my first async IO dovrai andare ad utilizzare la programmazione asincrona quindi questo video serve per prepararti alle due missioni allora innanzitutto cerchiamo di chiarire che cosa vuol dire IO IO infatti sta per input e output prova ad immaginare il tuo codice eccolo qui ora dobbiamo leggere il file in un hard disk quindi essenzialmente c'è uno scambio di input e di output tra il nostro codice che magari va a chiedere all'hard disk hard disk devo leggere il file chiamato alberto.txt l'hard disk verifica se quel file esiste verifica se si può leggere e successivamente restituisce il contenuto al nostro codice questo è un input e un output quindi un trasferimento di dati ora l'hard disk era solo un esempio in realtà le operazioni di input output avvengono ogni qual volta il nostro codice acceda a delle risorse esterne a se stesso cioè per intenderci immaginiamo che il nostro codice voglia accedere a dei dati presenti nel database ecco quella è una risorsa esterna oppure voglia scaricare un file da internet anche quella è una risorsa esterna bene a questo punto doversi avere ben chiaro cosa vuol dire almeno input output passiamo al prossimo concetto programmazione sincrona in realtà la programmazione sincrona è quella più comune che viene insegnata nelle scuole e che viene utilizzata dalla maggior parte dei linguaggi di programmazione questo codice non è scritto in nessun linguaggio particolare ma volevo utilizzarlo come esempio essenzialmente va a chiedere l'accesso ad un determinato file in sola lettura all'hard disk e poi successivamente andiamo a leggere una porzione del contenuto del file per poi stamparla quindi cerchiamo di capire passo passo come questo codice viene eseguito innanzitutto una caratteristica della programmazione sincrona è proprio quella che il codice viene eseguito in cascata quindi verrà eseguita prima la riga 1 poi la riga 2 e poi la riga 3 ma vediamolo step per step quindi innanzitutto il codice esegue la riga 1 eccolo qua che cosa accade? si accorge che deve leggere un file dall'hard disk quindi attenzione fermi tutti deve per forza di cose chiedere all'hard disk se quel file esiste e di aprirlo in sola lettura quindi deve contattare l'hard disk l'hard disk esegue le operazioni e poi successivamente restituisce il risultato che viene inserito all'interno della nostra variabile file soltanto a questo punto quindi soltanto nel momento in cui l'hard disk restituisce la risposta il nostro codice può andare avanti quindi a questo punto viene eseguito il comando 2 qui abbiamo proprio la lettura del contenuto del file ovviamente anche qui lo script si blocca e dice attenzione fermi tutti devo chiedere all'hard disk di darmi questi dati prima di poter andare avanti quindi anche qui andrà a contattare l'hard disk l'hard disk eseguirà le operazioni e successivamente restituirà il contenuto all'interno della variabile content a questo punto il codice potrà andare avanti e quindi potrà eseguire la riga 3 fin qui nulla di nuovo perché con tutta probabilità tu sei stato abituato non solo a programmare in questo modo ma anche a pensare in questo modo quindi in maniera sequenziale un'istruzione dopo l'altra e come ti ho detto prima la maggior parte dei linguaggi utilizzano la programmazione sincrona quindi abbiamo PHP C Python Ruby ma anche Java i C Sharp quasi tutti sono basati su questo tipo di programmazione quello che voglio farti notare è che in realtà il nostro programma era completamente bloccato e fermo in attesa che l'hard disk gli desse una risposta queste vengono chiamate operazioni bloccanti ed essenzialmente avvengono ogni qualvolta c'è un input e un output quindi abbiamo la lettura sul file system la scrittura e quant'altro quando vogliamo interagire con il file system quando vogliamo interagire con il database quando vogliamo interagire con dei servizi esterni al nostro magari vogliamo usare dell'API oppure quando c'è un'interazione tra processi ecco queste sono le più comuni operazioni bloccanti però voglio farti vedere anche un esempio pratico quindi vediamo come funzionano nel concreto i web server tradizionali ovvero quelli che utilizzano la programmazione sincrona abbiamo il server che riceve delle visite da qualsiasi tipo di device per ogni visita restituisce delle pagine quindi immaginiamo di avere un blog una persona arriva sul nostro blog va sull'home page in realtà il server cosa andrà a fare va a contattare il database e l'hard disk e andrà a chiedere al database tutti quelli che sono i post del mio blog e invece all'hard disk quelle che sono le immagini i file CSS e quant'altro queste sono delle operazioni bloccanti quindi in realtà i web server per la maggior parte del loro tempo non fanno altro che rimanere in attesa che qualcun altro gli dia delle risposte Node.js ha deciso di fare qualcosa di diverso ovvero di utilizzare la programmazione asincrona che si basa sulle callback in realtà il concetto di callback non è una novità esistono già all'interno di javascript ed esistono anche in altri linguaggi di programmazione adesso ti faccio vedere che cosa sono essenzialmente le callback non sono altro che delle funzioni javascript che però non vengono eseguite nel momento specifico in cui vengono dichiarate ma bensì vengono eseguite leggermente in ritardo ecco un codice di esempio con questo codice noi possiamo andare a scaricare il contenuto di una determinata pagina internet andando ad utilizzare il metodo get djquery ora ti voglio chiedere secondo te quale sarà l'ordine dei console log quindi prova a immaginarti quale sarà il risultato nella nostra console ti lascio qualche secondo ok proviamo a vederlo assieme innanzitutto quando questo codice javascript verrà eseguito nella console ci verrà stampata la scritta start eccolo qua dopodiché verrà stampata prima la scritta and e poi successivamente verrà stampato il console log della pagina questo è un ultimo esempio di programmazione asincrona perché il codice non è rimasto bloccato e in attesa della risorsa esterna quindi della pagina internet ma è andato avanti e ha eseguito il resto del codice node.js ha deciso di utilizzare questo approccio il che gli dà degli enormi vantaggi in termini di performance quindi di velocità di esecuzione del codice ma allo stesso tempo anche di utilizzo delle risorse del server quindi di utilizzo della RAM di utilizzo della CPU e così via ovviamente questo si traduce anche in un vantaggio economico ed è per questo che node.js è così apprezzato da tutti i tipi di aziende sia dalle start-up sia dalle grandissime aziende come Paypal Netflix e così via adesso vediamo l'esempio di come poter convertire il codice che ti ho fatto vedere prima da sincrono ad asincrono innanzitutto nella programmazione asincrona come ti ho detto non ci aspettiamo che il risultato di una funzione venga immagazzinato in una variabile quindi andiamo ad eliminare content uguale ed eccolo qua abbiamo soltanto f read bene ora però dobbiamo andare ad inserire quella che è la callback e come ti ho detto prima non è altro che una funzione che viene richiamata leggermente in ritardo quindi andiamo ad inserirla ed è proprio la callback che prenderà in ingresso content quindi spostiamolo e inseriamolo qui mettiamo data adesso all'interno della nostra funzione noi potremo andare a richiamare e quindi ad accedere al contenuto del file eccolo qua gli sviluppatori Node.js hanno la consuetudine di firmare le funzioni di callback con due parametri error e data questo perché se la funzione asincrona quindi di lettura del file dovesse andare in errore questo errore verrà passato alla funzione di callback come primo parametro eccolo qua error se invece la lettura del file viene completata senza problemi error sarà vuoto e invece data conterrà tutti i dati ora voglio farti una piccola domanda se inseriamo un print data qui sotto cosa succede? prova a pensarci un attimo ok te lo dico io essenzialmente funziona così la variabile data può essere vista soltanto all'interno della nostra funzione di callback quindi soltanto qui dentro e se noi la stampiamo qua ci verrà restituito effettivamente il contenuto del file invece nel print data esterno alla funzione di callback verrà restituito un errore questo perché la variabile data non esiste all'esterno della callback benissimo adesso dovresti avere le idee un pochino più chiare ma non ti preoccupare se hai ancora dei dubbi è normale le callback e la programmazione asincrona sono dei concetti un po' particolari e lontani dal classico modo di programmare quindi se hai dei dubbi stai tranquillo e li affronteremo man mano nelle lezioni pratiche quindi andiamo a scrivere un po' di codice ciao io sono Alberto Olla e in questa lezione le cose cominciano a farsi un pochino più interessanti infatti andremo ad interagire con il file system ovvero andremo a leggere un file che si trova all'interno del nostro hard disk e faremo una lettura di tipo sincrono iniziamo apri l'esercizio 3 di learning node e fermo qua non farti spaventare da tutta questa massa di testo vai tranquillo e andiamo con calma come sempre visto che sei uno sviluppatore adulto e serio leggerai da solo in completa autonomia tutto il testo cercherai di capirlo cercherai di immaginarti come poterlo risolvere e qui nei suggerimenti ci dà vari riferimenti a dei moduli o comunque a nuove nozioni che ancora tu non conosci quindi se vuoi puoi anche andare un'occhiata alla documentazione ufficiale ok? poi stai tranquillo perché tanto in ogni caso dopo vedremo tutto assieme va bene? ti lascio leggere hai fatto? cerchiamo di schematizzare assieme cosa ci sta chiedendo di fare in questo esercizio innanzitutto noi riceviamo in input come primo argomento nel nostro programma di node il percorso di un file e dobbiamo leggerlo quindi apriamo il file in maniera sincrona leggiamo il suo contenuto e contiamo il numero degli a capo presenti all'interno del testo successivamente non dobbiamo fare altro che stampare quel numero l'esercizio in sé non è neanche così difficile ma è molto utile perché introduce alcuni argomenti nuovi come per esempio il require i moduli il buffer e così via ma andiamo con calma e guardiamo tutto con ordine quindi vai sul sito nodejs.org slash api e diamo un'occhiata al modulo fs il require infatti ci serve per poter includere all'interno del nostro codice nei moduli esterni come per esempio il modulo fs quindi per poter interrogare il file system ovvero il nostro hard disk vediamo come si usa qui ci fa subito un esempio nella versione asincrona che per il momento non ci interessa ma ci fa anche un esempio nella versione sincrona che è quella che noi dobbiamo andare ad utilizzare in questo esercizio quindi vediamo che cosa fa scrive const fs quindi crea una costante e in questa costante utilizza il require quindi va a richiamare il modulo successivamente per usarlo scrive semplicemente fs punto e il nome di un metodo qui sta facendo un esempio sincrono e lo possiamo notare dal suffisso sync quindi molto semplice nulla di complicato andiamo a vedere anche il metodo che ci sta chiedendo di usare in questo esercizio quindi read file eccolo qua questo è il read file e questa è la versione asincrona lo puoi notare sia perché manca il suffisso sync sia perché ci sono le callback che noi non abbiamo ancora visto ma le vedremo nella prossima lezione quello che interessa a noi invece è qui sotto ovvero read file sync che prende due parametri in ingresso il primo è obbligatorio ed è il path ovvero il percorso del file invece il secondo parametro è opzionale e può essere l'encoding Learn Your Node ci consiglia di utilizzare l'encoding utf8 ma questo lo vedremo dopo per adesso non ti preoccupare poi ci dice che questa è la versione sincrona del metodo read file e restituisce il contenuto di un path quindi se noi li passiamo il percorso di un file ci restituirà il suo contenuto tuttavia in che modo ce lo restituisce? se l'encoding è specificato ci viene restituito in formato stringa altrimenti ci viene restituito un buffer ma che cos'è un buffer? andiamo a scoprirlo qui puoi cliccare su buffer andiamo nella descrizione ed eccolo qua che cosa sono i buffer? essenzialmente è una classe già inclusa all'interno di node che noi possiamo richiamare senza dover fare require buffer quindi possiamo scrivere semplicemente buffer inoltre sono molto utili quando andiamo a fare delle interazioni sia con il file system ma anche con delle connessioni TCP argomento che vedremo nelle successive lezioni di learning node per adesso rimani concentrato sul file system perché sono così utili i buffer? immagina di dover leggere un file di grandi dimensioni per esempio 5 gigabyte come facciamo? tramite l'utilizzo dei buffer andiamo ad ottimizzare quella che è la memoria per la lettura del file quindi la lettura del file non verrà eseguita con un'unica operazione ma verrà diviso in tanti pezzettini e verrà annullati un pezzettino alla volta noi ovviamente nel nostro codice faremo un esempio sia utilizzando i buffer sia non utilizzandoli e invece utilizzando l'encoding con l'utf8 andiamo sul codice e cominciamo a scrivere qualcosa creiamo un nuovo file nella nostra cartella di lavoro per inserire il codice quindi nuovo file 03 trattino my first io punto js ok perfetto come prima cosa dobbiamo richiamare il modulo fs quindi require fs adesso richiamando la variabile fs abbiamo l'accesso a tutti i metodi del modulo del file system quindi fs punto e andiamo a richiamare il modulo che ci interessa per fare la lettura in maniera sincrona di un file dobbiamo richiamare read file sync apriamo le parentesi come primo argomento obbligatorio riceve il percorso del file che ci viene passato direttamente tramite learn new node quindi process punto argv dal momento che ci viene passato come primo argomento di input dobbiamo inserire l'indice 2 bene dal momento che sei qui per imparare ad utilizzare il node perché non facciamo qualche prova qualche esperimento quindi giusto per sperimentare perché non inseriamo un bel console log quindi possiamo scrivere let file e vediamo effettivamente che cosa ci restituisce salviamo e proviamo lanciamo prima il nostro script tramite il comando node quindi node 03 proviamo come puoi vedere ci dà un errore questo perché noi non abbiamo passato nessun argomento al nostro codice quindi noi abbiamo passato effettivamente il percorso del file ok dovremmo creare un file di prova però dal momento che tu hai letto con attenzione il comando ci dice che non abbiamo bisogno di creare nessun file perché questo ci viene fornito direttamente dal learn new node ovviamente dobbiamo richiamarlo tramite learn new node run ok quindi learn new node run è il nostro script eccolo qua ha passato per noi il file di prova e infatti ci viene restituito un output in questo caso un buffer però visto così non ci dice nulla quindi seguiamo il consiglio del learn new node e trasformiamo in stringa file punto to string salviamo e riproviamo ottimo abbiamo ottenuto il contenuto del file in formato stringa adesso non dobbiamo fare altro che contare quelli che sono gli a capo all'interno del testo quindi to string lo possiamo spostare qua creiamo una nuova variabile e contiamo gli a capo possiamo utilizzare il metodo split inseriamo come testo l'a capo e vediamo che cosa ci restituisce quindi salviamo il file e proviamo perfetto ci viene restituita un array con i vari blocchi del testo non ci resta che contare il numero dei blocchi quindi possiamo scrivere punto length proviamo a lanciare il verify quindi ver you not verify ah abbiamo fatto i tuoi test perché lui si aspettava che noi restituissimo il valore 23 invece il nostro script ha restituito il valore 24 cerchiamo di capire perché proviamo a pensare al nostro codice cosa stiamo facendo prendiamo un testo e lo dividiamo ogni qualvolta troviamo un a capo immaginati allora un testo che ha un solo a capo con questo codice però avremo un risultato pari a 2 ma noi sappiamo che l'a capo è soltanto 1 quindi c'è un errore questo perché noi andiamo a contare anche l'ultimo elemento successivo quindi all'ultimo a capo se ci fossero 2 a capo il nostro risultato sarebbe 3 ok quindi noi dobbiamo semplicemente scrivere meno 1 salviamo il file e riproviamo benissimo abbiamo passato tutti i test qui puoi vedere il codice che anche in questo caso è abbastanza simile ci dà anche delle note e ci dice se vogliamo evitare di usare il metodo toString possiamo passare utf8 all'argomento del nostro metodo readFilesync questo perché come abbiamo visto nella documentazione qualora noi passassimo al metodo readFilesync l'encoding quindi per esempio utf8 non ci restituirà più un buffer ma ci restituirà una stringa quindi potremmo scrivere direttamente questo file lo definiamo eccolo qui qui lines facciamo così salviamo il file e riproviamolo perfetto anche se questo codice funziona e ci è stato consigliato dall'Early o no da me personalmente non piace molto perché a prima vista non si capisce quasi nulla di ciò che va a fare preferisco dei codici che parlino quindi che comunichino allo sviluppatore cosa stanno facendo che siano quindi più leggibili ti faccio subito un esempio ok creiamo quindi una costante per il nome del file quindi processer creiamo un'altra costante per il file come puoi vedere scritto in questo modo il codice diventa molto più leggibile rispetto a prima però queste sono considerazioni personali facciamo un riepilogo delle cose che hai imparato innanzitutto hai visto come poter includere dei moduli esterni all'interno degli script javascript inoltre abbiamo effettuato una lettura nel file system in maniera sincrona tramite il modulo fs e inoltre hai anche interagito per la prima volta con gli elementi di tipo buffer argomento che comunque approfondiremo assieme nelle prossime lezioni quindi non ti preoccupare se non sei riuscito a capirlo a fondo per adesso hai fatto un ottimo lavoro questa era soltanto la missione 3 e ce ne mancano altre 10 quindi continua così perché finalmente siamo arrivati alla parte più divertente ovvero alle chiamate asincrone quindi il motivo per il quale Node.js è così famoso e lo vedremo nella prossima missione ciao io sono Alberto Olla e finalmente in questa lezione andrei a fare la tua prima chiamata asincrona infatti andremo sempre ad interagire con il file system quindi effettueremo la lettura di un file ma questa volta lo faremo in maniera asincrona quindi andremo anche ad utilizzare le callback sei carico cominciamo bene come prima cosa devi leggere quello che ci sta chiedendo di fare quindi leggilo con attenzione ci sono anche due link se ti vuoi documentare quindi per capire meglio il meccanismo che ti va a spiegare lo puoi fare ti puoi documentare leggilo da solo e poi tra poco lo vediamo assieme ok considera che stiamo procedendo per step quindi dobbiamo fare esattamente ciò che facevamo nel precedente esercizio ma questa volta in maniera asincrona quindi esattamente come prima riceviamo come primo argomento nel nostro programma Node.js il percorso di un file dobbiamo prendere questo percorso aprire il file e leggerlo ma questa volta la lettura verrà effettuata in maniera asincrona poi guardiamo il contenuto del file contiamo il numero degli a capo e infine stampiamo il numero degli a capo nella console quindi è praticamente identico al precedente codice non bastavo io a darti dei link da guardare ma adesso anche Learn Your Node ti dà degli indirizzi per i quali documentarti quindi proviamo a guardarli diamo un'occhiata al metodo readFile del modulo file system nella scorsa lezione abbiamo dato un'occhiata a questo metodo ma siamo andati ad utilizzare quello sincrono ovvero readFileSync ok noi invece adesso andremo ad utilizzare readFile il fatto che sia un metodo asincrono lo puoi subito notare dal fatto che prende in ingresso la calback infatti noi li possiamo passare innanzitutto il path che è obbligatorio esattamente come nel caso di readFileSync quindi il percorso del file poi l'encoding opzionale e poi successivamente la calback che non è altro che una funzione ma vediamo un esempio di come viene utilizzato qua abbiamo readFile li passiamo il percorso quindi il nostro path eventualmente potrebbe passare un encoding come opzionale e successivamente passa cosa molto importante la calback cos'è una calback? la calback come abbiamo già detto è una funzione quindi qui gli viene passata una funzione ora potrebbe sembrarti molto strano questa sintassi perché usa la nuova sintassi SSA ovvero la run function infatti se andiamo su ssafeatures.org qui in run function vediamo a che cosa corrisponde quindi qui abbiamo function prende l'ingresso v e fa un return e possiamo diciamo scriverlo in maniera più breve in questo mod questo corso non è incentrato sulla sintassi SSA ma mi sembrava giusto puntualizzare in modo tale che non avessi dubbi su cosa ci fosse scritto qui torniamo alla documentazione quindi abbiamo detto che questa freccia indica in realtà una funzione che prende in ingresso due variabili error e data nel caso error sia definita va e crea un'eccezione quindi crea un errore nel caso invece error non sia definita stampa il dato nella console noi dovremmo fare qualcosa di molto simile quindi questo codice ti sarà utile l'earning node ci suggerisce anche un altro link per capire meglio come funzionano le callback eccolo qua cosa che noi abbiamo già visto nell'azione bonus che ti ho fatto io comunque è sempre interessante dare un'occhiata a questo codice anche perché come puoi vedere utilizza proprio la funzione read file quindi quella che dobbiamo usare noi qui possiamo vedere un esempio pratico di come venga utilizzata vedi qui crea una funzione che prende come al solito l'ingresso due variabili quindi con la firma delle callback ovvero error è dato ovviamente gli puoi dare il nome che preferisci come in questo caso e successivamente svolge un'azione quindi prende il contenuto di questo parametro ricevuto in input e lo utilizza beh mi sembra che ci siamo documentati abbastanza andiamo a scrivere un po' di codice come al solito creiamo un nuovo file quindi nella nostra cartella di lavoro siamo qui 04 my first machine io .s ok perfetto e dal momento che l'esercizio è molto simile al precedente io andrei a riutilizzare il codice che abbiamo scritto prima ok perfetto direi che è arrivato il momento di insegnarti come disabilitare eslint dal momento che noi adesso stiamo scrivendo un po' di codice può essere fastidioso avere questi messaggi in errore quindi per disabilitarlo possiamo fare così clicca su view e seleziona la voce toggle command palette quindi ok ci aprirà questa simpatica finestrella in cui possiamo digitare dei comandi a noi interessa disabilitare l'inter o comunque eslint quindi scriviamo linter disable eccolo qua clicchiamo clicchiamo di nuovo ed effettivamente l'abbiamo disabilitato per riabilitarlo possiamo fare la stessa cosa scrivendo invece abilità quindi enable adesso iniziamo a scrivere il nostro codice iniziamo a fare le cose di cui siamo sicuri prima di tutto da qui in poi commentiamo e poi dopo vedremo dove posizionare queste istruzioni successivamente non dobbiamo più utilizzare read file sync ma dobbiamo soltanto utilizzare il metodo read file che si comporta allo stesso modo almeno per quanto riguarda i parametri di ingresso con l'unica grande differenza che riceve anche una callback e le callback abbiamo detto che non sono altro che delle funzioni quindi possiamo scrivere function tonde e graffe ed eccoci qua abbiamo detto che la funzione di callback ha la firma che è formata da error e data ovviamente noi possiamo modificare questi nomi ma per adesso li lasciamo così adesso noi qui dentro e soltanto dentro questa funzione andiamo a ricevere quello che è il valore di read file quindi tecnicamente questa costante non ci serve più perché il suo valore non verrà più restituito all'esterno ma bensì verrà tenuto all'interno della callback quindi questo lo possiamo eliminare ok ora perché non proviamo a fare un bel console log e vediamo che risultato ci restituisce quindi log data visto che questa è la prima volta che utilizziamo le callback perché non inseriamo altri bei due console log uno qui e uno qui qui mettiamo uno spazio ok proviamo un attimo a predire in che ordine verranno stampati questi console log sicuramente console log inizio verrà stampato per primo poi successivamente cosa verrà stampato il console log contenente i dati del file oppure il console log fine proviamo ad eseguire il codice e vediamo cosa ci restituisce dal momento che non abbiamo un file di prova nostro possiamo utilizzare quello di learn your node quindi scrivendo learn your node run quindi non il verify e passiamo lì il nostro file ok vediamo cosa ci restituisce ok il codice funziona però ci viene restituito tutto il contenuto del file saliamo su e vediamo cosa succede ecco qua c'è stato scritto prima il console log inizio successivamente il console log fine e dopo il console log fine è stato effettivamente letto il file avevi indovinato che l'ordine sarebbe stato questo? torniamo sul codice le callback influiscono direttamente su il flusso di esecuzione del codice ma questo non dovrebbe stupirti anche perché ho fatto una lezione bonus interamente sul funzionamento delle callback in cui ti spiegavo proprio questo procedimento ad ogni modo continuiamo e risolviamo finalmente l'esercizio quindi eliminiamo il console log dentro la variabile data è soltanto all'interno di questa callback noi abbiamo il contenuto del file quindi possiamo andare a riscrivere quello che avevamo scritto prima questo console log invece non ci serve più e qui al posto di file andremo a scrivere data salviamo e proviamo a lanciare il verify perfetto abbiamo superato tutti i test qui ci fa vedere anche quello che è il codice ufficiale o meglio quello che ci viene consigliato dal learning node essenzialmente è molto simile al nostro noi qui abbiamo usato l'utf8 quindi non ci serve andare a convertire il buffer tramite il toString e inoltre però qua inserisce una if per andare a gestire quello che è è un eventuale errore di apertura del file cosa che noi non abbiamo messo quindi possiamo subito andare ad inserirla quindi creiamo un if error possiamo inserire un console log oppure un'eccezione quindi throw error ok un'altra cosa che potremmo fare è sostituire la vecchia dicitura del function con la row function che si adattano perfettamente alle funzioni anonime ovvero quelle senza nome esattamente come in questo caso quindi eliminiamo function e qui andiamo a scrivere la freccia perfetto salviamo il file e abbiamo finito in questa lezione hai imparato e hai toccato con mano la reale differenza tra le operazioni sincrone quindi bloccanti e le operazioni asincrone quindi quelle non bloccanti e questo è molto importante nell'utilizzo di Node.js dato che quasi la totalità di metodi che andremo a richiamare e comunque di funzionalità che andremo a scrivere con Node si baseranno tutte sul metodo asincrono inoltre hai anche fatto la tua prima lettura di un file dal file system tramite il modulo fs e poi hai utilizzato anche per la prima volta le callback che ti accompagneranno in tutto il percorso di Node.js che dire anche questa missione è andata secondo me è una delle più importanti perché serve a introdurti al mondo delle callback e delle funzionalità asincrone che sono molto importanti all'interno di Node.js quindi ben fatto ci mancano soltanto 10 missioni anzi 9 missioni scusami e ti avviso questo era solo l'inizio perché da questo esercizio in poi andremo ad utilizzare le funzionalità asincrone in maniera molto più massiccia quindi continua così e diventa uno sviluppatore Node.js ciao io sono Alberto Olla nella precedente lezione hai usato per la prima volta le callback e le chiamate asincrone ma dobbiamo fare pratica quindi eccoci alla lezione 5 andremo a fare sempre un'interazione con il file system ma questa volta non andremo più a leggere un singolo file ma bensì andremo a leggere un'intera cartella sempre in maniera asincrona e quindi utilizzando le callback cominciamo apri Learn New Node all'esercizio 5 leggilo cerca di capirlo dai un'occhiata anche alla documentazione perché qua ci suggerisce due link da vedere e poi dopo lo vediamo assieme va bene leggilo pure allora innanzitutto riceviamo due input il primo è il percorso della cartella invece il secondo è un'estensione con estensione si intende .png .jpg nel caso delle immagini poi successivamente dobbiamo leggere il contenuto della cartella e in questo modo ottenere quella che è la lista dei file che contiene adesso non ci rimane che filtrare la lista stampando nella console soltanto il nome dei file che corrispondono all'estensione che ci è stata passata in input andiamo nella documentazione e diamo un'occhiata il metodo che dobbiamo utilizzare è readdir come primo parametro prende il percorso del file anzi il percorso della cartella il secondo parametro opzionale l'encoding terzo parametro la callback quindi la funzione noi l'abbiamo già visto anche nel metodo readfile che abbiamo visto nell'oluzione precedente le callback che servono per l'esecuzione asincrona hanno la firma errore e dato in questo caso i file si distinguono delle chiamate sincrone come readdir sync e le operazioni sincrone devi cercare di evitarle come la peste se vuoi bene a node.js andiamo a dare un'occhiata anche al modulo path che trovi qua sotto ci mette a disposizione tutti questi metodi molto interessanti che ci fanno risparmiare tempo vediamo un esempio base name ok possiamo usarlo in questo modo li passiamo un percorso con un file e lui ci restituisce il nome del file con l'estensione quello che dobbiamo utilizzare noi invece si chiama ex name ovvero restituisce soltanto l'estensione del file incluso il punto quindi se noi gli andiamo a passare index.html lui ci restituirà soltanto .html come puoi vedere è molto utile avere dei moduli a disposizione già pronti all'utilizzo proprio come path proprio questo è uno dei più grandi vantaggi di node.js perché c'è un'enorme quantità di librerie scritte da altri sviluppatori che noi possiamo semplicemente prendere e includerle all'interno del nostro codice e utilizzarle senza dover per forza andare noi ad scrivere il codice quindi ci fa risparmiare un'enorme quantità di tempo per questo viene considerata una tecnologia che aumenta la produttività ok detto questo andiamo sul codice e cominciamo a scrivere qualcosa creiamo un nuovo file quindi 05 filter ls.js come prima cosa dobbiamo includere i due moduli quindi require e andiamo a mettere l'fs ma anche il path quindi perfetto poi sappiamo che riceviamo in input due argomenti il primo è il percorso della cartella quindi con indice 2 e il secondo invece è l'estensione adesso cosa ci resta da fare dobbiamo effettivamente leggere quello che è il contenuto della cartella quindi richiamiamo il modulo fs utilizziamo il metodo read dir e qua dobbiamo passare il percorso della cartella dir path e anche la callback la callback è una funzione e noi in questo caso andremo direttamente a scrivere con la row function quindi r data ok qui anzi togliamo data e mettiamo files usiamo il run usiamo il run ovviamente 05 perfetto ci restituisce innanzitutto l'estensione quindi in questo caso md e poi successivamente un array in cui ogni elemento è un file torniamo sul codice quindi adesso che abbiamo visto che cosa ci restituisce possiamo eliminare i console log perché tanto sappiamo con cosa abbiamo a che fare e adesso non dobbiamo fare altro che scorrere files ed eliminare tutti quelli che non corrispondono all'estensione che c'è stata passata questa operazione la possiamo fare in diversi modi per esempio potremmo fare un ciclo for che va per files ok qui dentro andremo a verificare con una if il file ovviamente però qui noi abbiamo il nome del file e noi dovremmo invece andare a fare il confronto con l'estensione quindi possiamo utilizzare il modulo path in questo modo come nel metodo che avevamo visto nella documentazione quindi era path punto ext name così facendo andrà ad estrarre per noi l'estensione del file quindi ci basterà semplicemente fare un controllo con l'estensione che c'è stata passata ok quindi ext attenzione però ricordati che il metodo ext name restituisce l'estensione compresa di punto invece non so se l'hai notato ma prima quando abbiamo lanciato il run c'è stata passata l'estensione senza punto quindi era semplicemente md quindi qui dobbiamo essere noi ad aggiungere l'estensione in questo modo poi se l'if è vera che cosa dovrà andare a fare? un console log e dovrà stampare il nome del file quindi files d questo codice già dovrebbe funzionare ma proviamo a migliorarlo un pochettino d'altronde sei qui per imparare quindi innanzitutto qui abbiamo una concatenazione ha senso farla all'interno di un ciclo o all'interno della callback no potremmo farla benissimo fuori perché tanto almeno così l'estensione la uniformiamo al metodo extname quindi questa la possiamo fare direttamente qui ok ah un'altra cosa adesso che abbiamo scritto il nostro codice possiamo attivare slint così che ci dia finalmente dei consigli utili quindi linter enable eccolo qua salviamo il file così si attiva magari ok allora dobbiamo modificare come al solito questo perfetto già ci dà qualche suggerimento vediamo se è utile o meno qui ci sta dicendo che ha trovato inaspettata la nostra concatenazione tra stringhe andiamo a vedere di cosa si tratta slint infatti ci suggerisce di utilizzare il template literals al posto della concatenazione tra stringhe classica quindi se prima utilizzavi il più in questo modo ora ci consiglia di utilizzare questa sintassi che potrà sembrarti un po' strana perché fa parte della nuova sintassi ssa voglio fartela vedere sul sito come al solito ssafeatures.org sotto la voce template literals seleziona string interpolation qui ti fa vedere un esempio pratico dei due codici quindi come veniva scritto prima tramite i vari più per concatenare e come può essere scritto adesso inserendo anche quelle che sono le variabili all'interno del testo con questa dicitura un po' strana ovvero simbolo del dollaro e poi all'interno delle parentesi graffe vai ad inserire il nome della tua variabile o della tua costante questi che vedi qua non sono degli appici normali ma bensì sono degli appici inversi adesso ti spiego come fare andiamo su atom eccoci qua te lo scrivo così diventa più chiaro allora facciamo se sei su windows devi tenere premuto il tasto alt ok e nel mentre premere dal tastierino numerico anche la cifra 96 se invece ti trovi su linux puoi utilizzare alt gr quindi l'alt grafico più il singolo apice o comunque l'apice normale in questo modo ti apparirà l'apice inverso se invece ancora usi mac dovrebbe bastarti tenere premuto il tasto alt più il numero 9 ovviamente il più non lo deve cliccare te l'ho scritto io per farti capire che devi combinare questi tasti assieme se dovessi avere problemi con questo puoi fare una ricerca velocissima su google oppure chiedere nel gruppo d'aiuto ok quindi adesso che sappiamo scrivere effettivamente il template literals proviamolo e scriviamolo all'interno del nostro codice quindi abbiamo detto io sono su windows alt 96 eccoli qua e backslash andiamo a scrivere il punto e poi dobbiamo inserire la nostra variabile le variabili vengono inserite tramite il simbolo del dollaro e poi le parentesi graffe eccoci qua spostiamo il nome della nostra variabile è perfetto cancelliamo il codice precedente ok perfetto abbiamo scritto finalmente il nostro primo template literal ottimo andiamo un attimo qua qui ci da una serie di errori dovuti al var all'i++ e anche qui a qualche spazio inerente all'if e alla parentesi graffe tuttavia io sono poco interessato a tenere questo ciclo qua perché possiamo fare di meglio infatti dal momento che qui noi stiamo andando a scorrere tutta la nostra array files perché stiamo iniziando da zero e dobbiamo arrivare fino alla fine e files è un array noi possiamo scrivere in maniera molto più sintetica qualcosa del genere files punto e andiamo a richiamare il metodo delle array per scorrere ovvero for each for each prende una funzione che possiamo scrivere con la row function e questa funzione verrà eseguita per ogni singolo elemento della nostra lista quindi possiamo dire file andiamo a fare effettivamente una if quindi questo lo possiamo mantenere questo lo cancelliamo qui cerchiamo di sistemarlo un pochettino quindi dice che non ci vogliono spazi aggiungiamo le parentesi graffe altrimenti si lamenta ok vediamo cosa ci dice non vuole la linea bianca qui file non lo stiamo utilizzando perché qua mi sono dimenticato di modificare la dicitura grazie a eselint per una volta sei stato utile salviamo ok cos'altro rimane qua perfetto prima di andare avanti proviamo a lanciare il verify dato che non l'abbiamo ancora fatto quindi salviamo il file e andiamo nella console ok togliamo il run mettiamo il verify proviamo perfetto abbiamo passato tutti i test e qui possiamo vedere quello che è il codice che lui ci consiglia non solo utilizza il for each ma aggiunge anche una if per controllare se la variabile error quindi della nostra callback ha dato errore cioè se c'è stato qualche errore nella lettura della cartella di conseguenza non va avanti con le altre istruzioni se c'è stato qualche errore sarebbe utile inserirla anche nel nostro codice un'altra cosa che volevo farti vedere era come utilizzare il metodo filter quindi torniamo sul codice disabilitiamo eselint per un momento quindi inter inter disable eccolo qua perfetto questo lo commentiamo e scriviamo qualcosa come const il metodo filter si applica sulle array quindi nel nostro caso su files e il metodo filter ok perfetto come funziona filter prende in ingresso una funzione quindi function questa funzione viene eseguita per tutti quelli che sono gli elementi dell'array in maniera singola quindi per ogni singolo elemento se la funzione restituisce true il singolo elemento rimane all'interno dell'array e quindi viene salvato all'interno della nostra costante se invece questa funzione restituisce false l'elemento viene eliminato quindi crea proprio un filtro ora noi possiamo quindi scrivere qui file perché riceviamo il file questo true o false lo possiamo scrivere così return return e andare a inserire l'espressione o comunque il nostro controllo quindi questo perfetto come puoi vedere fa proprio un filtro ecco perché si chiama filter inoltre possiamo anche andare a scrivere la dicitura con la row function quindi in questo modo return non serve nella row function almeno in questo caso non ci serve e possiamo scriverlo così poi successivamente dobbiamo stampare gli elementi all'interno della nostra array filtered quindi possiamo utilizzare sempre il forici visto che ci è piaciuto e questa volta dobbiamo stampare gli elementi nella console quindi anche qui file salviamo proviamo a lanciarlo sul terminale e vediamo se funziona perfetto ok facciamo un riepilogo delle cose che abbiamo imparato in questa lezione innanzitutto hai continuato a fare pratica con le callback e con i metodi asincroni e questo è molto importante dato che li userai spessissimo con OJS e li continueremo ad usare anche all'interno del corso in tutte le successive lezioni poi hai visto come utilizzare il modulo path quindi hai incluso il modulo l'hai utilizzato ok questo è sempre interessante andare a usare i moduli che gli altri scrivono e successivamente abbiamo visto anche se in velocità il metodo for each e il metodo filter per gli array quindi adesso li conosci e sai quando utilizzarli e sostituirli a un classico for bene anche la lezione 5 è finita stai andando alla grande ce ne mancano soltanto altre 8 volevo avvisarti che le prossime missioni saranno un pochino più difficili rispetto a quelle che abbiamo visto adesso ma questo è normale stiamo facendo un percorso per arrivare fino in cima alla conoscenza di OJS quindi ci sta che il grado di difficoltà aumenti in ogni caso tu non ti devi preoccupare stai pure tranquillo perché tanto ci sono io a darti una mano quando ti serve aiuto quindi continuiamo così se sei arrivato fino a questo punto del video vuol dire soltanto una cosa che non vedi l'ora di iniziare a programmare con OJS e questo mi fa un enorme piacere proprio per questo motivo ho preparato un regalo per te ovvero uno sconto sul mio corso completo di OJS infatti le lezioni che hai appena seguito fanno parte di un corso più grande chiamato da jQuery a OJS il corso in cui insegno tutti quelli che sono i concetti fondamentali di Nod e se dopo che avrai acquistato il corso non rimarrai soddisfatto potrai chiedere il rimborso entro 30 giorni e io Alberto Olla ti restituirò l'intera somma inoltre alla fine del corso riceverai il certificato di completamento che potrai aggiungere al tuo profilo LinkedIn oppure al tuo curriculum il link con lo sconto lo trovi nella descrizione del video quindi qui sotto bene ora che sai come accedere allo sconto ti chiedo di farmi un piccolo favore molto personale ovvero se questi video che hai appena visto ti sono piaciuti ti chiedo di condividerli con i tuoi amici che si trovano nella tua stessa situazione quindi che vogliono imparare NoJS e ovviamente di supportarmi con un like e scrivendomi nei commenti cosa ne pensi di questi video sono curioso di sapere qual è la tua opinione dai ci vediamo all'interno del corso e che Nod sia con te